Mattarella non converge, noi rispettiamo la persona Mattarella, ma certamente non siamo d'accordo su questa candidatura. E' molto chiaro, nelle prime tre votazioni votano in bianco tutti, anche il PD vota la scheda bianca, noi voteremo scheda bianca anche la quarta votazione. Se ci sarà una quinta, evidentemente il quadro sarà molto cambiato, perché la candidatura di Mattarella sarà stata bocciata da coloro che oggi dicono di sostenere.